Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero, suona ciò che ami, più suona e più la ami Salve a tutti, sono Giuseppe Di Trizio, il direttore artistico dei Radicanto, innanzitutto e poi del festival di Voce in Voce e siamo giunti alla non edizione. Questa edizione si terrà nella sua prima sessione dal 6 all'8 ottobre al Teatro Traetta qui di Bitonto 6 concerti, 6 monografie musicali in equilibrio tra musica d'autore e folk revival, sempre in una chiave d'autore e avremo concerti di omaggio a Domenico Modugno, musica classica, omaggio alla tradizione della Murgia, insomma omaggio ai cantautori italiani, insomma una serie di ospiti tutti votati alla riproposta di una musica che noi definiamo non rassegnata, cioè di una musica d'autore che non ha mai tempo. Di Voce in Voce nasce dall'idea della tradizione orale, del farsi di voce in voce, del racconto da una persona all'altra perché la tradizione orale appunto si tramanda così, di padre in figlio. Innanzitutto di venire ad ascoltare la musica dal viva, di venire ad ascoltare una musica che difficilmente si trova in altri contenitori, l'accesso è gratuito, basta semplicemente telefonare al teatro e per notarsi, tutti i spettacoli iniziano alle 20.30, da domani sabato e anche domenica avremo prima dei due concerti al giorno anche due presentazioni di libri a cura di Radici Futuri Edizioni e quindi di venire ad unirsi a noi in questo viaggio musicale di spettacolo.